Partecipano al campionato nazionale di Serie A, hanno due giocatrici in nazionale e vincono più degli uomini in azzurro, così ha scritto pure Repubblica in un articolo dedicato alle donne del rugby. Sono le Belve Nero Verdi, squadra aquilana che si è presentata ufficialmente in comune. Grazie ad un progetto di tutoraggio e al progetto scuola, il parco giocatrici negli anni si è ampliato di molto e la squadra della Presidente Francesca Alfonsetti sta ottenendo ottimi risultati in campionato. Militiamo in Serie A nazionale, in un campionato di Serie A nazionale, abbiamo delle trasferte che vanno da Firenze, Ferrara, Bologna, abbiamo una squadra abbastanza grande, però la cosa bella di questa squadra di quest'anno è che non siamo soltanto ragazze aquilane ma abbiamo dato la possibilità grazie al tutoraggio messo a disposizione della FIR di poter far giocare ragazze che non vivono la nostra stessa bella realtà, quindi che non hanno la possibilità di giocare in Serie A come il Sambuceto, il Teramo e siamo andate anche fuori regione con il Macerata. Non di meno, non lasciando dietro le ragazze di Avezzano, che non a caso abbiamo anche il nostro capitano che è d'Avezzano. Ci sono anche ragazze, le vostre, che sono in nazionale? Sì, certo, abbiamo due ragazze in nazionale, Lisa Cucchiella e Lucia Cammarano, che è arrivata quest'anno a giocare all'Aquila, si è trasferita all'Aquila per motivi di lavoro e la prima cosa che ha fatto è che ci ha cercato come società, come club.